Suona con me che è il più giovane della formazione, ha soltanto 19 anni, l'avete sentito prima con la fisarmonica. Lui è iniziato a suonare invece questo strumento quando ne aveva soltanto quattro. Per cui ragazzi io voglio farvi escoltare cosa sa fare con il suo organetto. A tempo di colchia, adesso facciamo tutto il Giro d'Italia. Signori Michael, prospeli! 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 E' un'armoglia di pace Robi! C'è un'armoglia di Sicilia! 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 E' un'armoglia di Sicilia! C'è 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 un'armoglia di Sicilia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.